Allora, io inizierei, benvenuti tutti, grazie per l'attenza dell'attesa, a quelli che sono stati puntuali alle 14.30, grazie ovviamente molte a Riccardo Guido per la disponibilità a interroguire con noi, questo è il secondo appuntamento che facciamo in questi giorni sulla vicenda che ha riguardato il periodo tra il maggio e il 19 luglio del 1992, le date che hanno caratterizzato l'omicidio Pino di Falcone e il volo di Borsillino, ricorderete che è la giornalista Stefania Limiti, una decina di giorni fa, forse anche meno ci ha aiutato a capire o almeno ci ha posto delle considerazioni importanti rispetto all'omicidio di Capaci. Adesso Riccardo Guido, che è un mio amico da tanto tempo, è stato per tantissimi anni consulente della commissione parlamentare antimafia, è pugliese, dura abitando a Roma ormai da anni, è insomma un giornalista, ha dei libri, quello forse più significativo è Savo e le mafie, è un modo per raccontare ai ragazzi dei fenomeni mafiosi. Adesso diceva lui stesso che tra qualche giorno inizierà a lavorare all'agenzia dei beni confiscati, quindi persona assolutamente competente rispetto alle questioni riguardanti la vicenda mafiosa e grazie molti a Riccardo per essere qui e con noi e io gli cederei subito la parola dicendo che almeno se siete d'accordo il metodo potrebbe essere questo. Riccardo parla il tempo che vuole, quando finisce ci prenotiamo per le domande e poi Riccardo risponde alle domande. Grazie a tutti, dovreste sentirmi bene perché mi sembrava prima che tutti mi sentissero senza problemi. Il tema di oggi sono questi 57 giorni fra la strada di Cicapaci e quella di Via D'Amelio, che è un tema che da sempre, da quando mi sono occupato delle stagioni da sempre, una delle cose su cui fin dall'inizio mi sono focalizzato era la cronologia degli avvenimenti, perché è una di quelle cose che aiutavano a orientarsi in una materia che è complicatissima come potete immaginare. È che negli anni paradossalmente invece che chiarirsi sempre di più si è complicata sempre di più. È che senza tenere presenti alcuni elementi guida nel tempo, che si collegano ovviamente poi con i vari fatti, non ci aiutano a venirne fuori e non ci aiutano soprattutto anche a capire, a sperare che si possa a un certo punto capire veramente che cosa è successo e perché quelle due stragi sono state fatte in quel modo. Come vi ha detto molto bene Stefania Limiti per chi c'era già all'altro incontro, il nucleo fondamentale da cui partire è capire perché hanno fatto delle stragi, perché l'assassinio di Falcone e l'assassinio di Borsellino si potevano sicuramente fare con altre metodologie, senza usare un'autobomba in autostrada che poteva causare oltre la morte di Falcone, della Morvillo, dei tre agenti di scorta, poteva causare ovviamente la morte di tantissime persone, basti pensare, poteva passare un pullman sulla corsia opposta dell'autostrada e avrebbe subito la stessa sorte di chi è morto in quell'attentato, come pure l'attentato a Borsellino è un attentato che vuole sconvolgere ancora di più e che viene fatto con modalità anche qui particolarmente violente appunto da sventrare i palazzi circostanti, per cui non semplicemente la necessità di eliminare delle persone, come viene fatto per esempio, per fare l'esempio più vicino a queste stragi con Salvo Lima, ma la necessità di in qualche modo mandare un messaggio molto forte e molto chiaro. A chi questo messaggio fosse rivolto è una delle domande che ancora è abbastanza aperto. Per capire tutto, diciamo, per orientarsi in questo periodo dei 57 giorni in realtà bisogna sempre tenere presente che tutto nasce qualche mese prima, quando si riunisce la commissione di Cosa Nostra e decide che comunque si dovrà vendicare di Falcone e Borsellino se il maxiprocesso andrà a conclusione. Oltre che di Falcone e Borsellino anche invece di chi avrebbe dovuto aiutarli a evitare le condanne di quel maxiprocesso e non l'ha fatto come accadrà con Salvo Lima, come accadrà dopo la morte di Falcone e Borsellino con uno dei cugini Salvo che verrà ucciso nel settembre del 92. Salvo era la connessione principale fra Cosa Nostra e in particolare Cosa Nostra Corleonese e la corrente andreottiana e Andreotti in particolare. Il momento scatenante della vendetta, il momento in cui si decide che partiranno i progetti di vendetta è il 30 gennaio 92 la condanna definitiva in Cassazione del maxiprocesso. Perché aspettano questo momento? perché normalmente i processi, i grandi processi di mafia con tante condanne in primo grado molto spesso confermate in secondo grado, in Cassazione molto spesso con il contributo decisivo contro le sentenze del giudice Carnevale sono scomparse queste condanne. E i mafiosi hanno mantenuto la speranza fino al 30 gennaio 92 che anche in questo caso la sentenza definitiva non fosse di condanna, non ci fossero gli ergastoli per tutta la cupola di Cosa Nostra. Quello che invece accade è che ce la conferma perché a giudicare su quella sentenza non sarà la sezione presiduta da Corrado Carnevale ma un'altra sezione perché il presidente della corte di Cassazione decide per la prima volta di applicare un criterio di rotazione sui processi di mafia e non di competenza specifica sempre e soltanto della sezione di cui faceva parte Carnevale. Dunque da quel momento in poi partono i progetti di morte per Falcone e Borsellino. Per Falcone sappiamo che volevano farlo qui a Roma che l'hanno anche seguito davanti al ministero, hanno anche una volta sbagliato, sono andati in un ristorante diverso ma questo fa parte un po' dei racconti un po' confusi di alcuni dei collaboratori di giustizia. Con Borsellino non avviene tutta questa preparazione, con Borsellino tutto diventa un po' più una corsa. Perché? Questo è una delle domande fondamentali che dobbiamo porci se vogliamo comprendere quel momento. Cioè perché ucciso Falcone non basta a questo tipo di vendetta, ucciso Falcone in quel modo, cioè mandando un segnale fortissimo. Sicuramente la morte di Falcone produce una conseguenza immediata ed è quella che Andreotti che era in corsa per la presidenza della Repubblica non diventa presidente della Repubblica, presidente della Repubblica diventa Oscar Luigi Scalfaro. Questo è un dato innegabile, non è sicuramente fra le cose per cui Cosa Nostra ha fatto la strage, però è una delle conseguenze della strage Falcone probabilmente. Però è anche ovviamente un indebolimento di uno dei punti di riferimento di Cosa Nostra nella politica anche se le sentenze dicono che lo è stato solo fino al 1982. Quello che accade appunto dopo Falcone è una cosa che la mafia probabilmente aveva messo in conto, cioè che alcune normative contro la mafia vengono varate, che Falcone aveva preparato, alcune erano cominciate ad andare in porto, le altre vanno in porto solo dopo la morte di Falcone. È l'8 giugno del 1992, per cui più o meno 15 giorni dopo la morte di Falcone, il governo vara un decreto legge che si chiama proprio, adesso non mi viene il termine che usarono il giornalistico per l'epoca, ma insomma pacchetto Falcone, una cosa di questo tipo, perché conteneva un po' tutte le... in particolare conteneva da un lato la creazione del 41 bis, cioè la separazione dei grandi boss di mafia dentro le carceri, e dall'altro il varo della super procura antimafia. Tutte e due le misure erano nei pensieri non solo di Falcone, ma di tanti magistrati e politici che si occupavano di antimafia da anni, ma non riuscivano a vedere la luce perché c'erano, diciamo, alcuni contrasti interni al sistema su pressione delle mafie, altri contrasti invece più legittimi da parte di chi voleva un sistema più garantista su alcuni aspetti e temeva che questi strumenti venissero utilizzati invece in maniera poco lecita, anche perché l'Italia veniva dall'esperienza dell'alto commissariato antimafia che invece di favorire la lotta alla mafia è stato forse l'organismo antimafia più invaso da corrotti, infiltrati, deviatori che ci sia stato probabilmente nella storia italiana. Tutti scoperti molto dopo, non mentre erano in servizio all'alto commissariato antimafia, ma tutti quelli che lavoravano nel campo delle mafie non hanno mai avuto una buona impressione, diciamo così, di questo alto commissariato alla mafia, per cui questo si rifletteva un po' anche sulla superprocura, sulla superprocura per dire c'era una opposizione in quel momento molto forte, prima della morte di Falcone, degli eredi del Partito Comunista, il PDS si chiamava all'epoca, con persone che poi insomma sicuramente non si potrà dubitare, come Massimo Brutti che poi sarà sottosegretario, lavorerà moltissimo su questi temi, ma che cercava di tenere dentro insieme l'esigenza di un'investigazione di alto livello con alcune istanze di maggiori garanzia sul potere della magistratura. Cose che poi in effetti nel disegno finale della DNA rientreranno, tanto è vero che la DNA non può fare arresti direttamente neanche adesso, devono farle le procure territoriali con le procedure anche di garanzia per gli arrestati previsti da tutto quanto, insomma una serie di strumenti che furono effettivamente lievemente corretti all'epoca e su cui qualche dubbio ci poteva essere all'epoca e non per forza dubbio di gente che vorreva. Però appunto l'8 gennaio, 15 giorni dopo, comincia questa cosa. Insieme a questa cosa Borsellino fa quello che poteva fare in quel momento, Borsellino le indagini sulla strage di Capaci non le svolge Palermo, Borsellino si fa riassegnare a Palermo, non era magistrato a Palermo in quel momento, si fa riassegnare a Palermo in quella fase, ma le indagini sulla strage le fa Caltanisetta perché la regola è che per accadimenti che riguardano un magistrato di un territorio indaga un territorio vicino. Per dire Taranto credo che la competenza sia potenza, anzi sono abbastanza sicuro perché la richiesta di arresto del procuratore capo di Taranto abbastanza recente era di potenza. Per cui capita così in tutti i territori. Di conseguenza il motivo per cui tutte le indagini più importanti sulle stragi sono a Caltanisetta è questo. Caltanisetta all'epoca non era neanche come adesso, nel senso che adesso Caltanisetta è una struttura della DDA, di direzione struttuale antimafia territoriale, dunque anche perché ha indagato sulle stragi è una procura che si è rinforzata. All'epoca era la procura di un piccolo paese, perché Caltanisetta è una cittadina molto bella ma piccola e ovviamente aveva gli strumenti. Viene ovviamente rafforzata in quel momento con tutte le strutture possibili di investigazione ma la procura è una procura piccola. Borsellino fa invece quello che poteva fare lui, cioè cerca di continuare fra virgolette le indagini che Falcone aveva messo da parte per andare al Ministero e che alcuni suoi colleghi avevano in parte portato avanti, in parte no. E cerca di farlo interrogando alcuni collaboratori di giustizia. Sa benissimo Borsellino che era uno dei più grandi e convinti sostenitori di questo strumento prezioso dentro le indagini, cioè i collaboratori di giustizia, soprattutto all'epoca. Adesso ovviamente con le intercettazioni, con tutta una serie di sistemi, i collaboratori di giustizia anche dentro le mafie hanno un ruolo molto meno importante per le indagini rispetto a quello che poteva essere all'epoca. All'epoca invece aveva un ruolo determinante perché il racconto da dentro delle mafie, in particolare il racconto da dentro di Cosa Nostra, dell'Andrangheta, era un racconto che agli investigatori era completamente precluso, quasi impossibile da realizzare se non in pochissimi casi fortunati in cui arrivavano a mettere qualche micro spia, delle micro spie che c'erano all'epoca tra l'altro ovviamente. Per cui Borsellino avvia alcuni colloqui con collaboratori di giustizia. Mi sono qui segnato proprio le date perché sono abbastanza importanti. Con Messina, un collaboratore di mafia che si occupa soprattutto di affari, e Mutolo lo fa il primo luglio. Perché è importante? Perché quello di con Messina avviene, non sappiamo esattamente la data, anche se forse poi in un processo mi sa che sono riuscito a ricostruirla, però per quelle che sono le mie conoscenze dirette la data non era proprio definitissima, ma era intorno al 20 di giugno. Con Messina avvia già un colloquio soprattutto sul tema degli appalti, politica, appalti e cosa nostra. Su questo tema c'era stato un importante rapporto fatto dal Ross dei Carabinieri. Il Ross dei Carabinieri in quel momento però è composto tutto da personaggi che poi sono finiti nei processi. Il capo è Antonio Subranni, la parte più operativa è diretta dal colonnello Mori, e poi c'è De Donno, all'epoca credo non fosse ancora colonnello, adesso credo sia colonnello anche se non è più Carabinieri. Tutti e tre sono finiti in varie indagini per questioni di mafia, sono tutti e tre nella fase dell'appello, credo, della trattativa, per cui non abbiamo una questione definitiva, però tutti e tre hanno in questo momento un problema aperto con la giustizia su questo tema, per cui non abbiamo su quello una risposta definitiva da questo punto di vista. Però Borsellino evidentemente, di Mori e De Donno, e di conseguenza dobbiamo supporre anche di Subranni, in qualche modo si fidava, perché fa un colloquio con loro il 25 giugno. Quando fa questo colloquio con loro però Borsellino non è a conoscenza di alcune cose che hanno già fatto, Mori e De Donno, che sicuramente ha fatto De Donno, probabilmente ha fatto Mori, ma che Mori sicuramente sapeva che aveva fatto De Donno, perché la struttura di comando dei Carabinieri sicuramente non permetteva a un sottoposto di Mori di agire per fare quello che vi sto per ricordare in questo momento, che sicuramente già saprete. E cioè De Donno ha cercato il contatto con Ciancimino, con Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, ma soprattutto corleonese, elemento importantissimo nelle dinamiche mafia e politica, in particolare in Sicilia ovviamente. De Donno racconta, quando gli viene chiesto la prima volta come era avvenuto il contatto, dice di aver incontrato casualmente su un aereo il figlio di Vito Ciancimino, Massimo Ciancimino, che poi ricorderete, insomma è finito in tutta la vicenda trattativa, raccontando alcune cose vere, alcune cose diciamo non proprio riscontrabili e altre totalmente inventate. Però appunto De Donno dice di aver incontrato per caso, è molto probabile che sapessero che Massimo Ciancimino avrebbe preso quell'aereo e De Donno abbia scelto di prendere quell'aereo per poterlo incontrare. e avviano dopo la strada di Capaci e prima ovviamente la strada di Borsellino, non sapendo che c'è stata la strada di Borsellino, avviano questo rapporto con Ciancimino finalizzato a due cose, da un lato individuare chi ha messo le bombe a Capaci, dall'altro catturare i grandi latitanti, perché è in quel momento, dopo la strage Falcone soltanto, che lo Stato comincia a fare una caccia ai latitanti che diventerà pressante, continua, senza quartiere, porterà in carcere tutto il versio di Cosa Nostra. A me, a Gianni, tra l'altro io casualmente il 23 maggio del 1992 ero proprio a Taranto a una manifestazione per la pace. Non ricordo se ci fosse Gianni, ma è diciamo molto 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 probabile che ci fosse anche lui, per cui insomma dopo questo 23 maggio del 1992 comincia questa caccia ai grandi latitanti, per cui loro entrano in contatto con Ciancimino per cercare di catturare Riina, principalmente Provenzano, perché comunque la figura principale in quel momento era soprattutto Totorina. e dunque loro entrano in contatto con De Donno, nell'entrare in contatto con De Donno lo fanno, con Ciancimino, tramite De Donno, lo fanno in un primo momento diciamo di iniziativa personale loro, probabilmente di iniziativa condivisa sicuramente col Vecere Rosso, dunque Subranni e anche con i vertici dell'arma dei Carabinieri, però non hanno diciamo un supporto politico in quel momento. e loro si muovono per andarlo a cercare, si muovono per andarlo a cercare perché il governo sta cambiando, si sta passando da un ministro dell'interno che era Scotti a un altro ministro dell'interno che sarà Nicola Mancino, sta cambiando anche, dovrebbe cambiare anche il ministro della giustizia, ma insomma tutte queste cose qua. I Carabinieri sanno appunto che cercare appoggio nel governo uscente non sarebbe utile avere una forza nella loro trattativa, chiamiamola così perché trattativa sarà, dall'altro hanno bisogno anche di una sponda dentro la magistratura. Si muovono andando a cercare su diversi terreni. Il primo terreno con cui si vanno a confrontare è Liliana Ferraro. Liliana Ferraro è una magistrata, anche lei lavora al ministero, è una magistrata da sempre molto legata a Falcone e Borsellino perché li ha aiutati nell'avere gli strumenti per le loro indagini quando loro erano ancora impegnati come procura di Palermo, per cui loro vanno da lei per dirgli che loro hanno questo contatto con Ciancimino e dirà Mori anni dopo per avere un supporto politico. La Ferraro non racconterà di questa cosa fino a che non si muoverà la commissione antimafia sostanzialmente nel 2008 nel fare una indagine autonoma da quella della magistratura. Un'indagine con il presidente Pisano fatta con parlamentari diciamo tutti di alto livello nella lotta contro le mafie, nelle indagini, insomma che avrebbe potuto portare forse risultati diversi se a un certo punto non si fosse incrociata con l'inchiesta penale vera e propria sulla trattativa della procura di Palermo. Anche lì nessuno avrà mai le prove perché non si può fare la storia con i sé, ma finché non c'era un'indagine penale a titolo trattativa, le persone che sono venute in commissione antimafia, l'ex ministro della giustizia Conso, ma anche appunto la dottoressa Ferraro, altri personaggi importanti dell'epoca, cominciarono a ricordare qualcosa, magari confusamente, magari non completamente, però alcune cose le hanno raccontate. Quando è partita l'indagine penale tutti i ricordi si sono bloccati perché ovviamente il timore di finire coinvolti dentro un'indagine penale per aver favorito l'attentato a Borsellino e ovviamente ha bloccato tutti quanti i ricordi che potevano aiutare meglio probabilmente a ricostruire. Poi nel processo alcune cose sono state dette, ma ovviamente uno sono passati ancora molti anni, due la ricostruzione di un testimone in aula può essere solo delle cose di cui è a conoscenza diretta. Alcune cose che vengono dette, sono state dette in commissione parlamentare antimafia, che potevano essere anche le ricostruzioni di quello che si era sentito nell'aria, di quello che si discuteva nei corridoi, di quello che non riguardava direttamente decisioni e fatti, ma invece un atteggiamento più generale. Che è quello che per l'appunto venne a dire in commissione antimafia il ministro della giustizia dell'epoca, Conso, parlando di un momento successivo alle stragi, quando venne a dire che, come disse lui, per fare un tentativo, si tolse il 41 bis ad alcuni mafiosi minori per cercare di far finire le stragi in continente, per cui ci siamo spostati al 93. Ma torniamo, spero di non essere troppo confuso, ma insomma, appunto le date un po' ci aiutano in questo. Torniamo al secondo colloquio che vi avevo detto di Borsellino con un collaboratore di giustizia, con Mutolo. Il secondo colloquio è del primo luglio. Perché è particolarmente importante questo primo luglio? Perché intorno a questo primo luglio si giocano un sacco di misteri. Torniamo dietro solo di cinque giorni. Borsellino il 25 giugno ha incontrato Mori e De Donno. Li ha incontrati non in procura, e questa è un po' una stranezza, ma in una caserma dei carabinieri. Probabilmente Borsellino non si fidava degli ambienti di procura, non voleva far sapere di questo suo incontro con Mori e De Donno e dunque sceglie un luogo dove si sente evidentemente più a riparo, che è una caserma dei carabinieri e li incontra lì. L'incontro lì non sappiamo esattamente di cosa abbiano parlato. Mori e De Donno hanno sempre sostenuto di non aver detto a Borsellino di avere in corso dei contatti con Ciancimino per una trattativa. Borsellino purtroppo non aveva avuto modo mai di raccontarlo. Sappiamo che Borsellino di Mori e De Donno noi non abbiamo prove contrarie, malgrado poi dopo anche da parte dei familiari di Borsellino siano stati sollevati dubbi sui rapporti con Mori. Di contrada sappiamo invece, della parte polizia sappiamo che probabilmente Borsellino non si fidava molto, e lo vedremo appunto andando al primo luglio. Insomma, questo 25 giugno Borsellino si incontra con loro ad alcuni elementi e probabilmente gli chiede di riapprofondire il famoso dossier mafia-appalti consegnato alla procura e rimasto abbastanza lettera morta. Il primo luglio Borsellino sta interrogando Mutolo, Mutolo gli sta raccontando alcune cose, fra queste cose che Mutolo gli sta raccontando e che ancora non è verbalizzato è appunto alcuni rapporti sospetti di Bruno Contrada con elementi di Cosa Nostra. Mutolo gli sta dicendo abbastanza chiare lettere di rapporti non proprio trasparenti di contrada. Come ovvio, qualsiasi poliziotto che indaga ha bisogno di avere rapporti anche con la controparte. Il tema ovviamente poi è se questi rapporti sono solo per avere alcune informazioni, per facilitare alcune operazioni, o se invece diventano un rapporto di scambio molto più elevato e che dunque è fuori da quello che è, diciamo, la possibilità di muoversi un po' per un investigatore mentre sta facendo delle indagini è concesso e quello che invece non concede il rispetto vero delle leggi e delle differenze fra l'essere dalla parte dello Stato e non esserlo fino in fondo. Sappiamo che anche Contrada appunto ha avuto una vicenda giudiziaria molto altalenante. In realtà per la giustizia italiana ha una condanna definitiva che però è stata messa in parte in discussione da un provvedimento della Corte Europea che ha detto che non poteva essere condannato perché il reato di concorso esterno alla mafia non era così ben definito da essere per lui ben conosciuto e dunque poter essere punibile per questo reato. Tornando al primo luglio Borsellino sta trattando con Mutulo questo fatto dei rapporti con pezzi di Stato che in realtà con la mafia non sarebbero in concorrenza ma sarebbero quasi intrecciati o comunque per alcuni affari intrecciati e viene chiamato al Ministero viene chiamato al Ministero dell'Interno gli dicono per salutare il nuovo Ministro il nuovo Ministro è appunto Nicola Mancino che si insedia quel giorno e Borsellino va al Ministero insieme a un altro magistrato di Palermo Aliquò quando arriva al Ministero non incontra il Ministro direttamente ma viene messo ad attendere e viene fatto incontrare in realtà con l'allora capo della Polizia Parisi con cui Borsellino era già in rapporti ma non era stato chiamato a quanto pare da Parisi per incontrare Parisi ma con la motivazione di incontrare il Ministro in questo frangente tra l'altro Borsellino dirà poi a Mutolo quando ritorna a fare l'interrogatorio o ha anche incontrato Bruno Contrada non sappiamo non c'è una prova di questo incontro se non questo racconto di Borsellino a Mutolo oggettivamente nessuno riesce a immaginare perché Borsellino doveva raccontare a Mutolo di aver incontrato Contrada se non l'avesse fatto però Contrada nega di aver incontrato Borsellino in quell'occasione Borsellino invece quando rientra è molto turbato mi sembra che ci sia anche un racconto che si accende due sigarette contemporaneamente Borsellino fumava comunque in continuazione però appunto due sigarette in contemporanea no e racconta a Mutolo che è avvenuta questa cosa di aver incontrato Contrada l'altra cosa che succede sicuramente è che Borsellino ha un incontro fugace con il ministro, con Mancino e questo è uno dei misteri su cui per molto tempo non si è riuscito a fare chiarezza Mancino ha sostenuto per tantissimi anni di non aver incontrato Borsellino quel giorno alla fine quando ha deciso di dire di ammettere di averlo incontrato ha detto che aveva avuto un incontro fugace e che lui non l'aveva neanche riconosciuto per questo non gli tornava in mente ora immaginare in Italia un politico del livello di Nicola Mancino il primo luglio del 1992 che incontra Borsellino anche fugacemente e che non gli rimane impresso e che nel momento in cui lo incontra non dice chiudiamoci in una stanza raccontami tutto quello che sta succedendo a Palermo io non riesco a immaginarlo se non perché c'è qualcosa di non detto in questo che purtroppo Mancino ha deciso di non raccontarci Mancino si è nascosto per anni dico nascosto perché la realtà si è nascosto dietro la sua agenda la sua agenda non riportava l'incontro con Borsellino lui diceva ha detto sempre di non essersi incontrato poi alla fine la versione finale è mi sono incontrato ma fugacemente il perché di questo non ricordo di Mancino per quasi vent'anni non lo sappiamo purtroppo è una delle cose che lasciano dei sospetti non tanto nessuno ha sospetti su ruoli di Mancino nelle stragi cose di questo tipo non ce le ha nessuno quello che non si capisce è perché Mancino non abbia detto subito quell'incontro che cosa possa esserci che a Mancino potesse sembrare preoccupante di aver incontrato Borsellino il primo luglio 1992 e non aver chiesto in quel momento a Borsellino cosa sta succedendo hai bisogno di qualcosa hai bisogno per esempio di far levare le macchine da davanti casa di tua mamma perché il motivo per cui Borsellino è così facile ucciderlo con un'autobomba è perché davanti alla casa della mamma di Borsellino le macchine non vennero levate non c'era il divieto di sosta come c'era davanti a tutte le case dei magistrati più importanti di Palermo come c'era in tutti i luoghi più a rischio di Palermo per cose di questo tipo soprattutto dopo il 23 maggio del 1992 il motivo per cui le macchine dalla casa della mamma di Borsellino non vengono levate anche questo si è perso nella memoria di chi era operativo in quei mesi fu ovviamente rimosso poi il questore di Palermo che c'era all'epoca ma come mai questa cosa non venne fatta e non venne predisposta rimane uno dei grandi dubbi sul perché che non viene chiarito da nessuna fase neanche dalle fasi di indagini che sono state fatte più accuratamente dopo in questo frangente sta succedendo già alcune cose importanti nel senso che si sta costituendo a Palermo un gruppo di a Palermo per aiutare Caltanisetta un gruppo specifico di lavoro della Polizia di Stato si è chiesto l'aiuto nelle indagini sulla stagia di Capaci all'FBI per cui pensando da subito che un qualche collegamento ci fosse con gli Stati Uniti quale fosse in quel momento il collegamento con gli Stati Uniti di quell'attentato non è chiaro cioè del perché si chiese l'aiuto dell'FBI piuttosto che di altre strutture specializzate l'FBI chiariamo è la struttura che indaga all'interno degli Stati Uniti la struttura che dovrebbe lavorare sull'esterno per gli Stati Uniti sarebbe la CIA non si chiese l'aiuto della CIA ma l'aiuto dell'FBI forse per semplicemente per rapporti di antica diciamo collaborazione con Falcone anche con De Gennaro che poi diventerà capo della Polizia ma all'epoca era un importante investigatore italiano insomma forse solo per quello però insomma si chiese l'aiuto dell'FBI su quell'indagine però quell'indagine stava già prendendo delle strane strade che prenderà ancora di più l'indagine su Borsellino comunque il primo luglio c'è questo incontro di Borsellino con Mutolo questo interrogatorio che poi viene in cui alla fine Borsellino farà anche verbalizzare la parte su Contrada e chiederà a Mutolo di verbalizzare la parte su Contrada ovviamente Borsellino non avrà il tempo di approfondire gli elementi di questa indagine continuerà a fare alcune cose fra le cose che fa in questo periodo torniamo ancora un attimino indietro ma proprio di qualche giorno sono degli incontri pubblici uno è particolarmente significativo non solo per le cose che Borsellino dirà in quell'incontro ma anche per l'impressione che gli esterni ricaveranno da quell'incontro al punto che un giornalista arriva a scriverlo l'impressione che ricava in quell'incontro l'incontro è un incontro organizzato dalla rivista Micromega una cosa importante che sta avvenendo in Sicilia in quel momento dopo Falcone è che invece di quello che normalmente è avvenuto dopo le altre stragi normalmente dopo le altre stragi l'opinione pubblica ma anche un po' le forze organizzate di Palermo impaurite un po' dalle cose non trovando delle sponde forse nelle istituzioni all'epoca insomma per una serie di motivi si erano tutte un po' ritirate invece quello che successe dopo Falcone è noto a tutti nel senso che quello che cambiò veramente in quei giorni a Palermo era che la gente era contro Cosa Nostra chiaramente al punto da mettere i lenzuoli ai propri balconi stavo dicendo il 26 fra i tanti incontri pubblici che si fanno c'è questo organizzato da Micromega un incontro di livello molto alto ma soprattutto è un incontro molto atteso perché lì è annunciata la partecipazione di Borsellino l'incontro è un incontro serale perché siamo a fine giugno a Palermo dunque fa molto caldo l'incontro inizia molto sul tardi ma Borsellino è tardi da arrivare arriverà all'incontro alle 22 pensate che i giornali terranno le pagine aperte sapendo di questo incontro a cui deve partecipare Borsellino che è comunque una cosa non normale diciamo a questo incontro Borsellino arriva tardi arriva alle 10 di sera ma arriva e vuole parlare parla racconta quello che appunto dice chiaramente che l'attentato contro Falcone non è un attentato solo di mafia non può essere un attentato solo di mafia vuole mandare dei messaggi è il compito delle indagini che si stanno sorgendo deve essere anche quello per cui dà come dire quello che sicuramente avrà detto anche nei colloqui privati con chi stava indagando in quel momento una precisa indicazione alle indagini ma l'impressione che tutti ne ricavano è che Borsellino abbia voglia di parlare di dire queste cose perché sa che non gli rimane molto tempo un giornalista appunto Saveri Rodato e l'unità arriva a scriverla questa cosa a metà di un articolo in cui diciamo se poi non ci fosse stato l'attentato a Borsellino forse avremmo perso la memoria ma a metà di questo articolo uscito appunto sull'unità del 27 giugno Saveri Rodato scrive proprio il magistrato parla con foga parla come una persona che sembra non avere molto tempo davanti e lo scrive quando ovviamente nessuno pensava che dopo meno di un mese Borsellino sarebbe stato vittima di un attentato Borsellino ha effettivamente questa quasi premonizione del del suo attentato perché i segnali sono tanti sono arrivate molte minacce sono arrivati molti segnali che è arrivato altro esplosivo a lui ad Antonio Di Pietro perché Antonio Di Pietro era l'altro magistrato ovviamente in quel momento particolarmente sotto i riflettori e di conseguenza su cui si temeva particolarmente ci potessero essere degli attentati sia a lui che a Di Pietro proposero di andare all'estero Di Pietro in realtà diciamo lui sostiene che ci andò la famiglia di Di Pietro in realtà per un periodo probabilmente anche Di Pietro è stato all'estero in Costa Rica specificamente in Ohio per alcune parti dei giorni Borsellino rifiuta categoricamente di lasciare la Sicilia per andare da altre parti se non per andare a fare l'interrogatorio dei collaboratori di giustizia ma assolutamente rifiuta di però ovviamente questo segnale che gli arriva dalle forze di sicurezza sicuramente lo avrà messo in preoccupazione per cui sapeva di avere poco tempo probabilmente sapeva anche che se le sue indagini andavano avanti la risposta anche degli apparati dello Stato sarebbe stata particolarmente violenta gli apparati deviati dello Stato sarebbe stata particolarmente violenta per cui magari non pensava per forza di essere ucciso ma magari pensava che qualcuno arrivasse a bloccare le sue indagini per cui aveva la voglia di fare molti più passi in avanti possibili Borsellino è importante ricordarlo pochi giorni prima della morte di Falcone in realtà ha rilasciato un'intervista che poi verrà resa nota molto tempo dopo a dei giornalisti francesi in cui parlava per esempio del coinvolgimento con Cosa Nostra di Dell'Utri e ne parlava quasi ridendo di intercettazioni in cui si parlava di cavalli da portare da un posto all'altro dicendo chiaramente che quei cavalli erano dei carichi di droga secondo lui Borsellino in quella fase non indaga su questi rapporti probabilmente però la casualità ha voluto che ne parlasse proprio pochi giorni prima e che poi ovviamente dopo quando le indagini su Marcello Dell'Utri sono andate avanti anche queste vicende siano state rivisitate e lette in un altro modo e siamo arrivati dunque a questa settimana densissima 25 giugno incontro con Mori De Donno 26 giugno l'incontro pubblico il primo luglio l'incontro con Mutolo per l'interrogatorio e l'incontro con il ministro dell'interno nuovo Mancino dopodiché in realtà fra il primo e il 19 di luglio il giorno dell'attentato non ci sono grandissime cose quello che succede sono appunto una serie di colloqui con Borsellino con magistrati di Palermo con i quali si interrogano con i quali lui riporta anche dubbi ovviamente colloqui con i suoi familiari perché la preoccupazione di Borsellino era ovviamente anche per la sicurezza dei suoi familiari e anche questo fatto che Borsellino malgrado l'amore di lavoro che stava svolgendo in quei giorni trova il tempo per esempio per scrivere una lettera a una preside di Bassano del Grappa che l'aveva invitato lui aveva citato di andare in questa scuola e non potendoci andare gli manda una lunga lettera che è un po' il testamento spirituale di Borsellino se vogliamo insieme anche a quello che poi dirà in un altro incontro pubblico e quello che sta succedendo è che non riguarda direttamente Borsellino ma riguarda il mondo della politica di quelli che dovevano lavorare su per dare alla mafia una risposta dura è appunto che dopo l'approvazione di questo decreto Falcone nel quale non si muove granché in realtà il decreto Falcone viene approvato l'8 giugno 1992 contiene il 41 bis è un decreto per cui teoricamente immediatamente applicabile ma non succede nulla il 41 bis non viene applicato a nessun pentito a nessun scusatemi a nessun mafioso pensate che verrà applicato per l'appunto per la prima volta il 20 luglio 1992 nella notte fra il 19 e il 20 luglio Claudio Martelli che è ancora ministro della giustizia lui non è stato cambiato come è venuto con Scotti immediatamente verrà cambiato più in là Martelli che è ancora ministro della giustizia nella notte fra il 19 e il 20 firma una quantità enorme più di 400 provvedimenti al 41 bis in quel momento particolarmente duri perché vengono portati i mafiosi sull'isola di Pianosa e della Sinara per cui veramente isolati dal mondo fatto fatto l'8 il 9 giugno questo provvedimento avrebbe cambiato il destino di Borsellino noi non lo sappiamo perché ovviamente non è possibile saperlo mancavano gli strumenti per attuarlo non credo perché altrimenti non si sarebbero trovati nella notte tra il 19 e il 20 di luglio mancava probabilmente la forza perché appunto su questi provvedimenti era in corso al Senato e alla Camera il dibattito politico e non tutti erano convinti che fossero dei buoni provvedimenti e che potessero diventare legge così come erano per cui forze Martelli non li applicò subito per non rischiare di vederseli diciamo ritorti contro durante il dibattito parlamentare però sta di fatto che non vengono attuati non vengono attuati anche un'altra serie di strumenti che potevano essere le istituzioni quello che sicuramente non viene attuato è che comunque i boss mafiosi rimangono in carcere normalmente come stavano fino all'epoca che sapete che insomma i carceri italiani per i boss non erano proprio dei posti così negativi come possiamo immaginare adesso erano dei posti dove addirittura appunto per quello di Palermo si parlava di Hotel Lucciardone per cui probabilmente dentro le carceri e fuori le carceri si poteva continuare a avere contatti abbastanza di alto livello con Riina e Provenzano ricordiamoci che sono in quel momento tutti e due latitanti tutti e due sicuramente in Italia Riina molto probabilmente anche addirittura in Sicilia Provenzano forse no in quel momento ma insomma Riina sicuramente era in Sicilia e i rapporti dunque con i boss in carcere potevano essere particolarmente importanti se fossero stati bloccati già in quel momento fra il primo attentato e il secondo attentato altra cosa che non succede appunto sono l'aver varato come legge definitiva tutte queste altre norme del sistema Falcone verranno tutte approvate subito dopo l'attentato a Borsellino è quella che ho coniato con il presidente della commissione antimafia con il quale ho lavorato per la prima volta Giuseppe Lumia la mafia l'antimafia del giorno dopo perché arrivava regolarmente il giorno dopo i grandi omicidi il primo caso enorme fu il 416 bis approvato solo dopo la morte non solo di La Torre che l'aveva pensato ma anche di Dalla Chiesa che era stato mandato in Sicilia anche per cercare che aveva ucciso l'onorevole Pio La Torre il 416 bis diventa legge dopo il 3 settembre del 1982 cioè dopo l'uccisione anche di Dalla Chiesa per cui non basta neanche l'omicidio di Pio La Torre e insomma ce ne sono stati tanti purtroppo nella storia italiana di decisioni di normative antimafia prese dopo per fortuna dal 94 in poi diciamo questa cosa non è quasi mai più avvenuta le leggi sono arrivate prima che ci fossero degli elementi violenti a scatenare diciamo la risposta dello Stato in questi giorni Borsellino appunto febblilmente cerca di capire come riavviare alcune delle indagini di Falcone perché lui sa che se trova il bandolo delle indagini messe da parte da Falcone probabilmente arriva anche a chi ha pensato di fare una strage come quella di Capaci e non solo a chi l'ha messa in pratica sapete che Capaci bene o male sappiamo per grandi linee almeno la parte mafiosa chi l'ha compiuta sulla strada di Borsellino non sappiamo neanche bene questo e questo sarà l'ultimo punto e poi lascia le vostre domande in questo periodo appunto Borsellino cerca da un lato di portare avanti le indagini dall'altro di continuare a dare un'impressione di una vita normale compreso andare a prendere la mamma per portarla a fare una visita medica anche qui questo è uno dei misteri su cui solo Borsellino ci aveva potuto rispondere cioè perché scegliere di fare una cosa che probabilmente appunto il suo caposcorta sapeva contenere degli elementi di rischio aveva chiesto di levare le macchine da lì comunque esponeva fra virgolette anche la mamma di Borsellino a rischio se l'ha tentato invece di farlo quando la scorta è scesa per suonare l'avessero fatta quando la mamma scendeva per rientrare in macchina la mamma di Borsellino sarebbe rimasta purtroppo vittima anche lei di quella di quella strage il perché Borsellino abbia scelto questa cosa probabilmente vi siete solo nel fatto che appunto voleva in qualche misura non trasmettere un'idea di panico eccessiva anche ai suoi familiari non sappiamo però chi abbia detto ai mafiosi che Borsellino stava uscendo materialmente dalla procura per andare a prendere la mamma tutti nell'indagine ha concordato sul fatto che Borsellino diceva ai suoi uomini della scorta dove andava solo nel momento in cui usciva e entrava in macchina per cui gli uomini della scorta non sapevano neanche loro figuriamoci se poteva saperlo qualcuno fuori c'è il sospetto che sia stata intercettata la telefonata della mamma di Borsellino c'è il sospetto che qualcuno che frequentava o il medico o le varie strutture della famiglia Borsellino che aveva una farmacia aveva ovviamente dei loro lavori dei loro rapporti abbia potuto sentire questa cosa è riferita ai mafiosi non si sa comunque bene come mai sapessero e come mai avessero già un po' ristretto il periodo cioè sapessero che più o meno in quei giorni Borsellino sarebbe andato a fare questa cosa tanto da preparare la macchina con l'esplosivo e così via però fatto sta che Borsellino va a prendere la mamma e quando va a prendere la mamma quando le genti scendono e lui scende per suonare il citofono e dire alla mamma di scendere esplode l'autobomba fa la strage quello che totalmente non sappiamo è quello che succede nei giorni successivi anzi nei secondi successivi perché dopo l'esplosione di via D'Amelio la seconda strage di mafia dopo 57 giorni a Palermo non avviene quello che tutti noi penseremmo debba avvenire cioè si chiude quella zona non entra nessuno finché non viene fatto un controllo assoluto di tutto quello che c'è là dentro per cercare di individuare chi ha messo quell'autobomba e cercare di individuare anche ovviamente i resti dei corpi eventuali documenti importanti e così via sappiamo che da questa marasma di persone che invece entrano in scena compreso ovviamente anche giornalisti che sono sul posto dall'epoca non si facevano i selfie ma se no sicuramente avremmo avuto dei selfie fatti sulla strage di via D'Amelio dall'albaresma di persone che entrano lì c'è questo scambio di questa borsa che è appartenuta a Borsellino che passa prima dalle mani di un magistrato poi dalle mani di un poliziotto poi dalle mani di un carabiniere insomma non si sa bene che viaggio faccia questa borsa e soprattutto il contenuto di questa borsa che tutti quanti ritengono contenga questa famosa agenda rossa di Borsellino di cui si sono perse le tracce di cui non sappiamo la destinazione non sappiamo se esiste ancora in tantissimi pensano che esiste ancora perché sia uno strumento di ricatto ancora oggi ancora 28 anni dopo ancora uno strumento di ricatto potente in mano a qualcuno sicuramente è uno strumento di ricatto se esiste ancora semplicemente perché appunto chi sa il percorso che ha fatto effettivamente quell'agenda rossa nelle varie inchieste che ci sono fatte sono stati messi sotto inchiesta anche appunto uno dei delle persone che si vedono nelle immagini con in mano la borsa ma sono tutti stati non sono mai stati processati effettivamente perché non si è riusciuti a dimostrare che sia avvenuto qualcosa di illecito ma soprattutto la cosa più grave che avviene invece è che l'indagine su questa autobomba viene completamente indirizzata verso parti completamente diversi da parte delle famiglie invece che delle famiglie mafiose che l'hanno gestita noi sappiamo adesso che le famiglie mafiose che hanno gestito quella vicenda sono le famiglie legate a Graviano sappiamo che i Graviano hanno avuto un ruolo forse addirittura operativo dentro la vicenda mentre invece le indagini grazie a un pentito falso completamente falso completamente costituito a tavolino questo possiamo dirlo senza aspettare le sentenze perché che Scarantino abbia detto cose false ormai è dimostrato in più di una sentenza è dimostrato dovuto dalla logica nel senso che chi ha fornito l'altra ricostruzione cioè l'altro collaboratore Spatuzza che arriverà solo nel 2008 l'altro collaboratore Spatuzza arriverà nel 2008 però prima già c'è stato Brusca cioè l'uomo che ha messo la bomba a Capaci per cui un uomo molto dentro o le dinamiche di Cosa Nostra che già aveva detto una volta guardate che per le stragi di Borsellino ci sono dentro persone innocenti persone non innocenti completamente perché alcuni di questi erano comunque boss mafiosi ma che non avevano fatto l'attentato a Borsellino Brusca dirà questa cosa ma non spiegherà mai il perché pure sendo un collaboratore dovrebbe dire tutta la verità se no uscire fuori dal programma ma diciamo Brusca era un collaboratore così prezioso che non esce dal programma ma credo non dica la verità sulla tentata a Borsellino però comunque nel 2008 arriva Spatuzza e capavolge completamente il racconto di questa vicenda dicendo che non solo le cose raccontate da Scarantino sono false ma soprattutto che a gestire quella vicenda fu lui per conto Spatuzza il nome l'avete sentito moltissimo non è un boss di primo piano Spatuzza è un esecutore però è un esecutore molto fedele molto scrupoloso per cui è un esecutore ovviamente prediletto dei boss mafiosi tant'è vero che lui non solo è coinvolto nella preparazione dell'attentato a Borsellino ma è coinvolto poi anche nelle stragi che avverranno in giro per l'Italia ed è una persona così scalta da riuscire a fare attentati a Milano Firenze Roma senza farsi scoprire mettendo le autobombe in dei posti non facilmente raggiungibili con delle indicazioni precise che gli sono state date di andare a fare attentati in quei posti mentre noi sappiamo che difficilmente la strage a Borsellino forse poteva essere evitata anche attuando prima il 41 bis indagando meglio in alcune direzioni quello che invece possiamo dire con qualche probabilità in più è che se le indagini fossero andate direttamente verso I Graviano già subito dopo la strage a Borsellino e non deviate verso altre famiglie mafiose altri protagonisti non andare a cercare Spatuzza per esempio perché non si stava indagando sui piccoli esecutori diciamo fino a quel momento di quella famiglia mafiosa forse le bombe in continente del 1993 che dovevano terminare nel 94 con una strage all'Olimpico di Roma forse quelle si sarebbero potute evitare perché alcuni degli esecutori scelti per quelle stragi ma soprattutto le menti e i contatti di quelle stragi cioè Graviano forse sarebbero stati più pressati dagli investigatori se non addirittura catturati prima i Graviani Graviano verranno catturati a Milano proprio al termine del periodo delle stragi nel 1994 e come sapete insomma dei processi è emerso che proprio in quel periodo finale del 94 avevano avuto anche contatti con Dell'Utri sempre nell'ottica probabilmente di cercare nuovi referenti economici e politici dopo che i primi erano stati colpiti dal fatto che erano stati finiti fuori gioco o perché scoperti e dunque sotto processo i loro rapporti anche se antichi con Cosa Nostra come Andreotti oppure fuori gioco gli imprenditori perché magari erano gli imprenditori coinvolti anche in mani pulite e dunque insomma sulla strage Borsellino c'è un depistaggio nelle indagini enorme in parte ve l'ha raccontato Stefania per cui insomma inutile tornarci troppo sopra ma in depistaggio questo sì decisivo perché per tantissimi anni fino a 2008 sarà anche una verità giudiziaria che arriva fino in Cassazione adesso ci sono dei processi che in realtà diciamo appunto hanno messo sotto processo solo l'ultima ruota di questo depistaggio e cioè alcuni poliziotti della squadra Falcone che ha lavorato a Palermo con la Barbera ma probabilmente questo depistaggio deve avere delle menti diverse deve avere anche dei componenti diversi solo da queste pedine che sono state ovviamente importanti nell'indirizzare come dire la memoria di Scarantino verso alcuni eventi e non verso altri eventi o a falsare del tutto in realtà la memoria di Scarantino verso alcuni personaggi e altri personaggi però appunto è questo l'ultimo grande interrogativo che ci rimane cioè perché invece di indagare nella giusta direzione utilizzando gli elementi che poi bene o male gli investigatori hanno in mano perché quando Spatuzza decide di collaborare per essere credibile dà degli elementi concreti ma sono elementi concreti che potevano probabilmente essere riscontrati già all'epoca forse gli strumenti dell'epoca non erano evoluti quanto quelli che si sono potuti usare nel 2008 ma non moltissimo perché per esempio chiedere come fosse stata modificata la macchina la 126 che doveva portare che fu caricata di esplosivo e portata sul luogo dell'attentato era una cosa a cui non c'era stata una risposta credibile da parte di Scarantino delle persone coinvolte nella prima indagine che invece Spatuzza spiegherà per filo e per segno nella sua collaborazione anche solo questo elemento minimale probabilmente avrebbe aiutato come pure diciamo alcune altre cose sulle utenze presenti le utenze telefoniche presenti in zona le persone presenti in zona e così via tutte cose che poi grazie al fatto che Spatuzza ha collaborato con la giustizia e Spatuzza tra l'altro rimane per me uno dei collaboratori più convincenti e forse l'unico con il quale si potrebbe usare il termine che avete forse notato io non uso per gli altri cioè di pentito perché Spatuzza non solo collabora senza nessun obbligo nel senso lui ormai aveva le sue condanne e non se ne potevano aggiungere altre a un certo punto decide probabilmente dobbiamo prendere per buono la sua parola per una conversione religiosa più autentica di quelle di cui normalmente fanno professione i boss mafiosi e decide di collaborare ma chiede anche di non avere nessun premio sostanzialmente per questa collaborazione Spatuzza anche se con ovviamente le leggi sui collaboratori potrebbe essere libero sostanzialmente e essere fuori in realtà è ancora detenuto ha scelto di non avere tutti i vari benefici dei collaboratori di giustizia di continuare così a espiare la sua pena in cui è stato condannato per cui forse è uno dei pochissimi pentiti per i quali possiamo usare questo nome mentre invece è molto più adatto e anche molto più comprensibile per la realtà dei fatti usare collaboratori di giustizia come dico sempre Gianni ha ricordato questo libro per ragazzi che ho scritto come dico sempre ragazzi cerco sempre di non concludere mai gli incontri appunto con una cosa negativa la cosa positiva di tutta questa cosa è appunto la sollevazione popolare che c'è stata contro Cosa Nostra purtroppo ci sono volute due stragi che è anche un po' la spiegazione perché adesso su alcuni movimenti delle mafie ci sia benedignazione perché non c'è questa scelta violenta delle mafie le mafie hanno dal loro punto di vista saggiamente scelto da un certo punto in po' di non fare più gesti eclatanti omicidi tra virgolette come vengono definiti sui giornali eccellenti anche se sono tutti quelli le vittime innocenti delle mafie sono vittime eccellenti però appunto l'altra cosa importante è che tutti quanti quelli che hanno pensato quelle stragi e le hanno eseguite sono in carcere condannati con sentenze definitive almeno per la parte mafiosa quello che ancora non sappiamo che è il nostro grande interrogativo che è stato un po' il filo rosso di questo ragionamento è di chi li ha spinti a fare le stragi in quel modo di quali sono stati i rapporti dentro le istituzioni che hanno consentito a quei mafiosi di pensare di poter avere un'impunità o di poter trattare con lo Stato dopo due stragi di quel livello e se effettivamente hanno avuto delle cose in cambio che non possono non sono state ovviamente per Rina la libertà Rina è stato catturato nel gennaio 1993 ed è morto in carcere Provenzano è rimasto libero ancora per 16 anni dopo le 14 anni dopo le stragi è stato catturato nel 2006 tra l'altro anche sulla cattura di Provenzano c'è la casualità di essere catturato quando dopo le elezioni del secondo governo Berlusconi per cui finita il mandato di Berlusconi come presidente del Consiglio era ancora diciamo in carica il governo di cui Berlusconi era presidente del Consiglio ma Provenzano viene catturato quando già si sa che il vincitore delle elezioni invece è Romano Prodi può essere talmente una casualità però è una data siccome sono siccome io ho condotto sulle date ovviamente questa è una cosa che molto spesso si dimentica nei ragionamenti ma che invece forse quando mai qualcuno ci potrà raccontare tutte le verità anche questa data potrebbe potrebbe avere un elemento di verità in più nella conoscenza su tutte queste vicende non perché qualcuno non abbia voluto catturare Provenzano nei giorni precedenti ma perché forse Provenzano ha perso alcuni altri sostegni che poteva avere in giro sono le domande che tutti quanti si fanno e a cui purtroppo su quelle anche non abbiamo nessuna risposta in più rispetto a quelle che abbiamo in questo momento io vi ringrazio vi lascio appunto un po' di grazie Riccardo grazie grazie veramente io ti credo di immaginare che adesso ci sia un pezzo di assolutamente di voto siamo una ventina di persone ma come se stessimo contemporaneamente applaudendo tutti l'applauso è grazie sicuramente un segno di ringraziamento ma anche un tributo alla tua capacità di posizione e ai tuoi conoscenzi e ai tuoi competenzi quindi veramente grazie per la tua disponibilità facciamo così come avevo detto chi vuole intervenire magari lo dice raccogliamo tre domande ogni volta e vorrei fare io delle domande alle tre domande anche io mi prenoto per una domanda vai Silvio allora sì innanzitutto volevo scusate chi sono le persone che vogliono intervenire per avere un'idea di quanto tempo dobbiamo allora Luigi Nuzzi Silvio Caporio è l'ordine Silvio Caporio Luigi Nuzzi qualcun altro io vedo solamente Silvio Caporio e Luigi Nuzzi ma magari scrive vittorio vuole intervenire secondo me vittorio vorrebbe intervenire ma non riesce a togliere il mutuo che sta va bene i giornalisti Lilli Angelo per Paolo va bene così ok vai Silvio allora più una curiosità io volevo sapere da lei che opinione si è fatta nella storia degli attentati di Falcone Borsalino in qualità proprio di giornalista e quale le sue idee come dire la portano a fare delle come dire delle delle osservazioni a riguardo e poi volevo sapere se l'ascesa poi di Forti Italia fosse stata decisa dopo le stragi di Falcone e Borsalino per ricercare una sponda politica di Cosa Nostra nella vita politica del paese visto che poi Dell'Utri è stato uno responsabile di Forti Italia grazie Silvio prego signor Luzzi signor Luzzi siete muto e adesso adesso di sempre ecco spero di non uscire fuori dal seminato però chiaramente il fenomeno della questa piaga italiana risale a molto tempo fa e quindi ha messo delle radici un po' in tutta la società italiana ma la cosa che mi sconvolge sono le scarcerazioni che sono avvenute giorni fa cioè si rimane sconcertati nel vedere che tante persone con la scusa del coronavirus hanno avuto il permesso di uscire dalle carce cioè questo è un fatto che sconvolge e che chiaramente intimorisce cioè non dà una sicurezza alla società perché sembrava che finalmente avessimo imboccato la strada giusta quando i siciliani stessi si erano finalmente avviati verso una reazione contro questo fenomeno molto chiara ecco vorrei sapere se è possibile avere una risposta su questo grazie Riccardo ti pongo anche io una domanda tu hai detto più volte che gli omicidi di Falcone e di Borsellino hanno sicuramente una rilevanza mafiosa ma non sono solamente omicidi di mafia hai detto anche all'esordio l'ha già detto Stefania qualche giorno fa che il giorno in cui fu ucciso Falcone sarebbe diventato presidente della Repubblica Andreotti noi siamo tutti noi abbiamo pensato negli anni che Andreotti fosse l'uomo politico più contiguo ai fenomeni mafiosi attraverso Ciancimino attraverso Rima attraverso i suoi rappresentanti in Sicilia o Andreotti è un pazzo statenato che sa per essere eletto presidente della Repubblica e fa in maniera che questa cosa non accada perché fa uccide Falcone o non è lui la dimensione politica della relazione se l'omicidio di Falcone è un consigliato mafioso ma non solo mafioso ma anche un consigliato politico la parte politica diciamo così la motivazione politica dell'omicidio di Falcone o il mandante politico a questo punto probabilmente non è più Andreotti e allora io mi perdo nel senso poi a questo punto non riesco più a capire per mia ignoranza quali siano le relazioni politiche che motivano queste queste dinamiche allora ovviamente l'ultima domanda è molto complicata nel senso si va su una serie di cose che non conosciamo e su cui possiamo soltanto ragionare appunto non avere certezze né tantomeno avere prove una cosa non sono più giornalista da un bel po' di anni nel senso che l'ho fatto da giovane ma poi mi sono dedicato all'attività di comunicatore pubblico che in Italia diciamo molto spesso si confonde con il giornalismo ma in realtà io ci tengo a dire che facevo l'ufficio stampa facendo l'ufficio stampa e i giornalisti facevano il loro mestiere raccontando all'esterno il mio compito era far conoscere il lavoro interno della commissione antimafia in particolare lo dico per chiarezza perché ovviamente non essendo più iscritto all'ordine anche non sono giornalista dal punto di vista tecnico però insomma giusto per dirlo un termine che è stato usato vorrei correggere prima di andare avanti e cioè l'ascesa di Forza Italia è stata decisa in realtà l'ascesa di Forza Italia l'hanno decisa gli italiani votando questo deve essere chiaro a tutti nel senso che per quanto ci possano essere stati rapporti di pezzi di Forza Italia come dell'Utri con Cosa Nostra ma poi le elezioni sono state le libere elezioni non truccate quelle nelle quali Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno preso tantissimi voti per cui diciamo l'ascesa è dovuta al fatto di aver preso dei voti la nascita ovviamente di Forza Italia forse qualche legame con le vicende che stiamo raccontando in questo incontro ce l'ha nel senso che lasciando da parte Silvio Berlusconi ma sicuramente dell'Utri appunto rapporti con elementi mafiosi elementi mafiosi di Cosa Nostra nello specifico ce li ha sicuramente Silvio Berlusconi a un certo punto ha chiesto proprio a dell'Utri in qualche misura di aiutarlo a essere più sicuro per la prima famiglia che può essere anche una motivazione legittima di base ma che ovviamente poi se è andato oltre il rapporto non lo è più ci sono molti collaboratori di giustizia che raccontano di affari di alcuni elementi di Cosa Nostra con la famiglia Berlusconi con Silvio Berlusconi ma tutti elementi che poi sono rimasti sempre non provati fino in fondo nelle indagini soprattutto le indagini non hanno mai dimostrato malgrado ci siano state molte negli anni che Silvio Berlusconi sia stato uno dei possibili mandanti delle stragi Falcone e Borsellino per cui leverei un po' questa cosa anche perché appunto in quel momento Forza Italia era un movimento già pensato questa è una delle cose un po' che hanno sempre sollevato sospetti che non sia stato detto fin dall'inizio che nel 1992 prima delle stragi Falcone e Borsellino Silvio Berlusconi e i suoi collaboratori più stretti stessero già pensando di fare un movimento politico non ancora con il nome Forza Italia forse non lo sappiamo perché non ci sono verbati questi incontri ma sicuramente ci stava già pensando perché semplicemente le persone che non hanno avuto problemi giudiziari e che anzi hanno rischiato di morire per l'azione di Cosa Nostra come Maurizio Costanzo in questo caso ma anche Enrico Mentana hanno detto di essere stati avvicinati in quegli anni da Silvio Berlusconi in quei mesi diciamo del 1992 da Berlusconi dai suoi collaboratori per valutare se appunto la discesa in campo diretta di Berlusconi poteva essere un'opzione praticabile come vedete poi Berlusconi invece scenderà ufficialmente in cambio più tardi ma ovviamente quando lui scende in campo non essendo uno sprovveduto da nessun punto di vista Berlusconi ha già pronta una macchina alle spalle che non è stata preparata sicuramente nelle poche settimane intercorse su quando lui prima appoggia Gianfranco Fini poi fa altri movimenti politici Gianfranco Fini all'epoca candidato sindaco di Roma fa altre diciamo uscite politiche e poi alla fine invece scende in campo in prima persona arrivando in pochi mesi alla vittoria nel 1994 per cui diciamo tolto il fatto che possano essere fra i cosiddetti mandanti occulti uso questo termine perché è quello che si usa di più ma anche perché è stato il titolo di una delle inchieste poi archiviate su questo tema sicuramente invece i rapporti di personaggi importanti di Forza Italia con elementi di Cosa Nostra sono nella storia di quel partito e ovviamente il fatto che non si sia fatto i conti fino in fondo con questa vicenda anche dentro quel partito politico chi si è mosso intorno a quel partito politico ha lasciato molte ombre sulle quali se si fosse fatta chiarezza fino in fondo probabilmente ci sono molti elementi che ci portano a pensare che i rapporti fossero abbastanza solidi non ultimo il fatto che i graviano vengono arrestati a Milano il giorno in cui hanno accompagnato una persona a fare un provino al figlio che poi diventerà un giocatore anche abbastanza famoso al figlio per il Milan non casualmente diciamo non per un'altra squadra in quella fase specifica per cui loro vengono arrestati la sera in cui c'è stato questo provino al Milan qualcuno ascoltava questi rapporti che c'erano e fa questa cosa sia per interrompere quei rapporti in quel momento sia per trovare a fermare le stragi che in quel momento erano in corso cioè l'arresto di Graviano avviene quando le stragi in continente ci sono già state manca l'ultima strage all'Olimpico che è saltata il 20 gennaio perché non ha funzionato forse il detonatore ma che doveva essere ripetuta per dare l'ultimo segnale diciamo allo Stato che bisognava ricominciare a trattare con Cosa Nostra quello che è importante che poi collega in parte con la risposta a Gianni è che ovviamente Cosa Nostra sicuramente in quella fase stava cercando dei nuovi referenti politici e in quella fase ovviamente li cercava o nei partiti più robusti che potevano sopravvivere a mani pulite che potevano essere anche i partiti di sinistra dove però poi appunto le emergenze processuali non hanno portato a grandi commistioni oppure appunto portano a Forza Italia dove invece un grande dirigente un fondatore come Dell'Utri è finito invece con una condanna definitiva per concorso esterno oltre questo non ci consente di andare nulla sia per evitare che il canale di Youtube di Gianni sia denunciato sia perché venga denunciato io nel senso che le emergenze processuali ci portano fin là penso di aver dato abbastanza elementi perché ognuno possa formarsi una sua valutazione io credo che dal punto di vista storico questa valutazione sia innegabile cioè che alcuni rapporti ci sono stati perché Dell'Utri era un pezzo fondamentale della creazione di Forza Italia nessuno l'ha mai negato Berlusconi l'ha più volte chiamato un eroe perché non ha collaborato con i magistrati se questa collaborazione posso intervenire poi su questo punto sì sì certo certo ovviamente non lo sappiamo appunto se questa collaborazione dell'Utri avrebbe portato qualche cambiamento o se invece abbia subito una condanna ingiusta che però appunto è arrivata fino alla Cassazione senza senza essere cancellata e guardo c'ho altre tre domande veloci ho un minuto l'una sì va bene veramente veloce nell'ordine siamo prontati Michelangelo per Paolo e Franco fate già le domande o rispondo a quelle già fatte scusami rispondo a quelle già fatte pensavo avessi terminato di rispondere era quella sugli scarcerati e in parte quella su Andreotti ora diciamo nessuno ha mai immaginato che Andreotti potesse essere fra i mandanti della strage Falcone in particolare nel senso che se non diciamo i nemici più acerrimi però è evidente che quella strage la prima conseguenza immediata che ha avuto è stato che la carriera di Andreotti politicamente è finita lì salvo poi diciamo essere comunque presente nella vita politica però sicuramente diciamo ha perso il ruolo centrale che aveva fino a quel momento perché era diventato fra virgolette politicamente intoccabile nel senso il rischio di finire dentro i suoi guai processuali per mafia era molto alto per chiunque pensasse dopo la strage Falcone e ancora più dopo la strage Borsellino di avere rapporti con lui anche se qualcuno ha avuto ancora i suoi voti congressuali dentro quello che è rimasto all'inizio della democrazia cristiana ma insomma stiamo parlando di cose molto meno importanti di quelle che ha fatto Andreotti fino al 1992 per cui io personalmente ma questa ovviamente è una mia impressione che può essere smentita ma insomma penso di no non lo ritengo per quelli che possono essere i possibili mandanti della strage Falcone tanto meno della stadio Borsellino in cui veramente non vedo che vantaggi possa mai aver pensato quello che molti dicono e che riconoscono anche io devo dire riconosco è che effettivamente Andreotti è quello che ha portato poi al fatto che la condanna per Andreotti sia stata per essere stato diciamo vicino alla mafia fino al 1982 e poi dopo e che probabilmente anche Andreotti che ha usato la mafia tanto quanto è stato usato dalla mafia lui e la sua corrente almeno fino al 1982 dopo abbia cambiato idea effettivamente non tanto da rompere i rapporti che in Sicilia continuavano ad avere rapporti con la mafia ma probabilmente non tanto da continuare a sostenerli e dunque favorire alcuni rapporti con alti livelli istituzionali chiusa questa parte invece velocissimamente sulle scarcerazioni più recenti sono state sicuramente un errore non credo potesse essere un errore frutto di un patto nascosto in qualche modo perché diciamo se il patto c'è stato è stato un patto molto rozzo un patto diciamo che dovrebbe aver avuto nascita fra il 20 febbraio e il 9 di marzo nascita e consolidarsi fra il 20 febbraio e il 9 di marzo ben sapendo perché quella vicenda è strettamente legata alla vicenda del coronavirus per cui finché non inizia l'epidemia in Italia finché non arriva il blocco di tutte le attività e finché non arriva la necessità in qualche misura di alleggerire il peso delle persone in carcere scarcerando chi poteva essere mandato ai domiciliari e non dovevano essere mandati ai domiciliari ovviamente i boss mafiosi diciamo che questo possa essere parte di un complotto è un po' diciamo secondo me una forzatura giornalistica più che altro è sicuramente un errore tant'è vero che ha portato in sequenza più o meno confusa prima al cambio di alcune persone alle dimissioni del capo del DAP poi sono andati via anche quelli che materialmente avevano fatto la circolare che ha dato il LA a una serie di scarcerazioni poi boss mafiosi diciamo è un termine forse anche lì un po' abusato dal punto di vista giornalistico diciamo di alcuni personaggi importanti della mafia forse i boss nel numero di quelli che c'erano potrebbero essere due o tre non certo i 70 condannati per fatti di mafia ma che non erano boss non erano boss prima non sono boss neanche quando finiscono in carcere tanto meno quando vengono mandati ai domiciliari sono condannati per fatti di mafia ma ovviamente i boss altrimenti hanno anche questo termine che invece ha una sua importanza dentro le categorie mafiose di lettura dei fenomeni mafiosi ecco i boss non erano non erano così tanti quanto sono stati indicati le altre domande allora mi pare di capire che non avevo la domanda per cui Michelangelo Pierpaolo Franco e Vittorio Angelici in quest'ordine di prenotazione ma mi sentite posso parlare c'era 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 qualcuno che ti ha prenotato prima spero se permettete Vittorio a delle difficoltà io chiedo scusa agli amici farei un attimo priorità a Vittorio a delle difficoltà quindi in questo momento lo scontiamo gli darei la parola scusandomi con gli amici un attimo va bene allora Vittorio sì chiedo scusa perché non ho sentito il dibattito ho sentito tutta quanta la conversazione di Riccardo e devo dire che veramente è stata è stata molto molto interessante anche se ogni volta che partecipo a dibattiti di questo tipo ne esco fuori un po' scioccato perché mi rendo conto che continuiamo a pestare acqua nel mortaio è vero che ci sono fatti interventi piuttosto forti per esempio in Sicilia cercando di abbattere un po' il gruppo della gente che era cresciuta intorno al capo insomma che poi è morto recentemente ma la cosa che io voglio dire qui se noi non riusciamo a chiarire chi fosse chi come ha detto Riccardo anche chi determinava chi voleva chi mandava costoro a fare questi interventi cioè dire se non riusciamo a capire bene quali fossero chi fossero coloro i quali tenevano i fili di queste cose coloro i quali poi sono stati quelli poi iniziarono anche a fare questa specie di trattativa perché una trattativa c'è stata questi fili sono stati tirati per esempio io dico ma non vi dice niente a voi il fatto che ci sia un uomo che si chiama Matteo Messina Donaro e che è uno dei pochi che sa tutto perché fa parte della cupola uno che era in stretto collegamento con il capo quindi che sarebbe in condizione di dirci tutto di raccontarci tutto e quest'uomo non riesce ad essere preso è latitante questo è il re il principe dei latitanti ma stiamo scherzando ma io credo che se noi volessimo quello lì in dieci giorni lo portano a casa non lo vogliono perché lui tanto hanno paura c'è chi ha paura che costrui una volta preso possa dire le cose molto interessanti e possa svelare misteri che sono ancora cupi e bui in questo momento oppure perché riesce oggi lui a avere un ricatto lo diceva anche prima Riccardo può avere in mano delle cose che gli consente delicattari per cui questo continua a fare la bella vita tutti sanno dov'è nessuno lo prende questo è un fatto che scuote le coscienze noi qui abbiamo pagato con uomini come come Giovanni Falcone come come Borsellino ma con tanti altri diciamo dire il figlio di il fratello di di Mattarella cioè di fronte non sentiamo più Vittorio ora sei muto Vittorio non sentiamo più sentiamo va bene d'accordo adesso sentiamo quindi praticamente voglio dire questo se cerchiamo di fare un'azione che che punti a mettere a mettere le mani su questo su questo capo della mafia che oggi è il capo vero della mafia uno di quelli che sa veramente tutto perché ha partecipato a tutto e probabilmente avremo uno squarcio di luce uno squarcio di verità in questa in questa faccenda che è sempre dolorosissima quando la si affronta grazie grazie Michelangelo buonasera dottor Riccardo volevo chiedere i diritti di mafia Borsellino e Falcone c'è silenzio di Stato sulla strage di Ustica ugualmente silenzio di Stato sono due cose completamente diverse ma c'è un parallelismo ci sono dei punti di contatto tra su questo silenzio di Stato grazie grazie Michelangelo per Paolo buonasera a tutti ecco io vorrei tutto ringraziare il dottor quanto ci ha raccontato tra l'altro è il seguito diciamo è la seconda puntata di quanto ha raccontato un paio di settimane fa con Stefania a limiti ecco quello che lei ci ha raccontato oggi mi fa tornare alla mente anche ciò che disse durante la presentazione di un suo libro il generale Angelo Angelo Pellegrini il quale era stato il comandante dell'anticrimine dell'arma dei carabinieri a Palermo ed era e ha lavorato a stretto contatto soprattutto con con Falcone lui disse a un certo punto in maniera molto amara potevamo arrestarli tutti sia i mafiosi che i pezzi infedeli dello Stato però sul più bello qualcuno ai piani alti si è tirato indietro e quindi noi ancora adesso paghiamo quella marcia indietro ma quello che più mi interessa sapere al di là poi di queste due stragi sanguinose di quelle che si sono verificate poi successivamente con quella che sarebbe dovuta culminare allo Stadio Olimpico di Roma dopodiché c'è stato una sorta di lungo silenzio ecco io mi chiedo secondo lei come si è riciclata la marcia cioè come è cambiata nel suo modo di agire soprattutto nei rapporti con lo Stato perché a questo punto da quello che sentiamo dire è conclamato che ci siano stretti i rapporti tra malavità tra cosche mafiose e Stato grazie grazie Paolo Franco Mastronuzzi e chiudiamo Franco apri il microfono Franco apri il microfono va bene mi sentite si sente? si si vai allora vorrei ritornare un po' sul discorso del rapporto tra Berlusconi e la mafia appare evidente che ci siano stati dei rapporti tra Berlusconi e la mafia innanzitutto non si spiega perché in quel periodo Berlusconi tenesse nella sua villa nei suoi domicili un ergastolano lo stagliere Mangano senza avere mai cavalli nella sua villa probabilmente gli è stato imposto dalla mafia come controllore di quello che faceva questo è un dato di fatto l'altro dato di fatto innanzitutto l'hanno votato gli italiani diceva lei però in Sicilia ha preso un bel po' di voti da Forza Italia in quel momento alla prima elezione ci sono le intercettazioni dei boss che parlavano di avere finalmente un presidente che era uno dei loro e poi vorrei fare anche un passo indietro io il papà di Berlusconi era procuratore nella banca Rasini dove tenevano i loro fondi i loro soldi boss come Provenzano e Riina ricordiamoci che questo Berlusconi è venuto fuori dal niente come imprenditore ed è diventato l'imprenditore più ricco d'Italia è ben pensabile che ci sia un rapporto anche fra questa banca Rasini del padre dove tenevano i soldi boss come Riina e Provenzano con tutto quello che è accaduto poi con Berlusconi quando è diventato imprenditore edile ricordiamoci Milano 2 l'ha costruita lui e anche le varie emittenti televisive con l'allora appoggio del ministro Biondi va bene quindi ci sono vari momenti importanti che possono far pensare a un rapporto antico fra Berlusconi e la mafia d'altronde il suo miglior amico Franco non ti sentiamo non ti sentiamo sono arrivato al termine non so se hai sentito l'ultima no no si sentiva tutto tutto è terminato questa era la mia domanda grazie Franco Riccardo vai allora cerco di tenere un po' di cose insieme tutto partiamo da un dato di fatto che è importante da tenere sempre presente che non solo sono finiti in carcere quelli che pensarono gli omicidi di Cosa Nostra dell'epoca la cupola di Cosa Nostra ma che a un certo momento in poi della nostra storia ogni volta che Cosa Nostra ha provato a ricreare la commissione provinciale è stato bloccato subito questo tentativo per cui è importante sapere che le nostre conoscenze le conoscenze investigative dello Stato italiano su Cosa Nostra sono tali da permetterci in questo momento di dire che non è sicuramente neanche lontanamente una forza a livelli di quello che era nel 1992 perché proprio non riesce neanche a ricostruire il suo organismo fondamentale Cosa Nostra è importante è diventata così pericolosa perché aveva un'organizzazione fatta e pensata a tavolino molto seriamente con una base molto larga che mano a mano si restringeva fino a un vertice che aveva un capo ma questo capo aveva a fianco a sé una serie di persone altrettanto importanti con i quali mantenere gli equilibri e questo per esempio dovrebbe sempre far rivedere questa immagine di Riina come un povero ignorantello che non capisce perché già solo se non avesse avuto rapporti esterni alla mafia ma solo per gestire i rapporti interni alla mafia prima scalarla e poi continuare a comandare e restare capo di Cosa Nostra malgrado fosse in carcere cioè far rispettare la regola di Cosa Nostra che il capo di Cosa Nostra si cambia solo quando muore questo soltanto questo deve aiutarci a far pensare dall'altro lato pensare quanto fosse scaltro e molto forte come carattere Provenzano uno capace di tenere i propri figli totalmente fuori da Cosa Nostra cioè quello che è stato per tanti anni il numero 2 poi diciamo il numero 1 alla pari con Riina ma essendo l'unico a piedi libero sicuramente il numero 1 più forte Provenzano i figli di Provenzano ci hanno provato in tutti i modi a tirarli dentro se avessero chiesto una sigaretta in maniera più brusca per strada le avrebbero arrestati per estorsione i figli di Provenzano non hanno mai avuto niente a che fare con la mafia per vari motivi probabilmente diciamo in parte vivono anche con i proventi del PA però non hanno mai avuto azioni criminali con la mafia cosa che invece i figli di Riina hanno fatto per cui diciamo questo per capire quanto il personaggio di Provenzano sia determinante nel capire come Cosa Nostra si sia spostata negli anni post stragi verso probabilmente un'azione politica più mirata più attenta e soprattutto alla necessità di fare soltanto affari di non essere più una forza in qualche misura contrapposta allo Stato che invece era l'idea di Cosa Nostra fino a che Riina e quelli prima di Riina hanno comandato per cui insomma è importante tenere presente questa cosa perché è l'elemento principale di ottimismo che dobbiamo avere che non possiamo ignorare che ci dice che Cosa Nostra l'abbiamo sostanzialmente battuta è ancora pericolosa perché ci sono elementi di Cosa Nostra è pericolosa soprattutto perché alcuni condannati con sentenza definitiva nel 1992 dopo 26 anni escono perché le pene sono finite non tutti hanno l'ergastolo non tutti hanno le stragi sulle spalle come condanna per cui alcuni con condanne pesantissime però dopo 26 anni ovviamente 28 anni escono e tornano nei loro territori non tutti sono anziani Graviano per esempio che non usciranno per il momento per molti anni ancora io spero diciamo mai se non per motivi di salute i Graviano sono sostanzialmente giovani un po' più anziani di me per cui diciamo se fossero in grado uscendo se potessero uscire sarebbero ancora in grado di comandare su un'organizzazione complessa come Cosa Nostra per cui noi dobbiamo essere di tutto ottimisti da questo punto di vista cioè abbiamo costruito un sistema che ci consente di contrastarla bene c'è un punto che è un po' sull'evoluzione attuale diciamo che ovviamente è molto lungo perché appunto poi ci porta sulla strada dell'Andrangheta perché appunto poi la vera evoluzione delle mafie è stata quella dell'Andrangheta per dedicarsi a rapporti di affari di altissimo livello ancora più alto paradossalmente di quello che era in grado di gestire la mafia che è quello che ancora che adesso ci preoccupa più di tutti perché ovviamente questa capacità di fare affari a livelli internazionali sta rendendo sempre più il capitale mafioso sempre più difficilmente distinguibile dal capitale pulito è uno dei motivi per cui lavorare sulla trasparenza dei soldi sul fatto che se usiamo sempre meno il contante e sempre più la moneta elettronica tutto questo verrà è sempre più difficile perché è vero che si sposta velocemente il denaro con i soldi ma il denaro elettronico noi riusciamo a seguirlo si può spostare velocemente quanto vuole ma noi riusciamo a seguirlo per quella l'azione per esempio di diffondere quanto più la moneta elettronica quanto più è possibile transazioni fatte non con diciamo promesse di soldi da un capo all'altro del mondo che non possono essere esaudite se non in contanti a un certo punto della vicenda come pure contrastare l'evasione è altrettanto decisivo perché i canali del riciclaggio dell'evasione delle mafie sono esattamente gli stessi non cambiano lo erano nel 1992 motivo anche prima nel 1989 per cui Falcone indaga insieme ai magistrati svizzeri che stanno indagando sul riciclaggio di soldi dai vasori di riciclaggio di soldi da corrotti e i soldi sono gli stessi le banche che fanno quelle operazioni a livello mondiale banche anche nobili diciamo dal punto di vista della capitalizzazione molto forti sono esattamente le stesse per cui questi due questo capitolo della lotta economica però insomma questo poi magari Gianni individua qualcuno più esperto di me che ve lo può raccontare per restare sul tema io ovviamente appunto ho detto Forza Italia sicuramente nasce perché anche c'è un interesse da parte di elementi di Cosa Nostra a far nascere qualcosa di diverso però appunto dividere troppo facilmente il bianco dal nero in quegli anni non è facile perché oggettivamente dobbiamo ricordarci tutti quanti che Silvio Berlusconi è sicuramente un simpatizzante del Partito Socialista ed è altrettanto fuori da dubbio che a dare ancora un'attività che permettesse di incidere sulla lotta a Cosa Nostra negli ultimi anni di vita a Falcone è stato un esponente di altissimo livello del Partito Socialista come Claudio Martelli si può discutere fino all'infinito su cosa muovesse questa sua intenzione ma il dato di fatto è quello per cui è importante ricordarsi che diciamo si sommano tante cose particolari sicuramente le azioni Falcone e Borsellino sono servite a essere erano un tentativo di indirizzare la politica italiana verso qualcosa esattamente come il non aver salvato Moro esattamente come la strage di Bologna quella di Ustica diciamo la terrei da parte fra tutte queste vicende perché in realtà entra e si incrocia con queste vicende solo per i depistaggi clamorosi nelle indagini ovviamente purtroppo quella di Ustica non è stata una strage voluta è capitato che un aereo passeggeri probabilmente si sia trovato dico probabilmente perché anche qui la verità processuale non ce l'abbiamo possiamo dire di avere una verità storica insomma un aereo passeggeri si è trovato sulla traiettoria di un missile diretto da un aereo militare a un altro aereo militare però appunto Ustica la terrei fuori nei ragionamenti terrei molto di più dentro la sede di Bologna perché invece la sede di Bologna si salda molto in tutte le vicende per i meccanismi di depistaggio per chi ha partecipato a quella strage per chi ha voluto quella strage che probabilmente appunto anni dopo potrebbe essere alcuni elementi che hanno pensato quelle stragi possano anche essere entrati nei giochi delle strage Falcone principalmente ma anche Borsellini dunque appunto quello che lega tutti questi se vogliamo usare uno schema facile diciamo così potrebbe essere Gladio per chi ha voglia andare a approfondire i libri di Stefania Limiti su questo punto sono sicuramente quelli più illuminanti però appunto Gladio e gli strascichi di Gladio dopo la sua scoperta dopo il suo disvelamento possono essere uno degli elementi cioè i rapporti molto stretti fra i nostri vertici dei servizi e i servizi americani i servizi americani se vogliamo i servizi americani più che deviati dobbiamo definirli quel pezzo di servizi americani devianti nel senso che sono quelli che hanno mosso le deviazioni in tanti paesi nel mondo in quegli anni cercando di indirizzarle a volte verso gli interessi degli Stati Uniti molto più spesso verso gli interessi di chi semplicemente muoveva i figli di queste azioni mi rendo conto di aver messo insomma carne sul fuoco molto complicata da gestire però insomma se si fa un ragionamento a tutto tondo bisogna tenerli dentro tutti questi figli perché altrimenti non se ne esce c'era un'altra cosa sul fatto appunto di aver fermato Falcone quello che ha detto il generale Pellegrini sicuramente Falcone fu fermato nella sua azione da magistrato su questo nessuno può avere più dubbi e fu fermato perché stava per andare a toccare dopo la condanna in primo grado del maxiprocesso era in grado sicuramente di far partire un altro pezzo di indagine che avrebbe toccato i livelli più alti Falcone l'ha sempre detto in tutte le maniere tutti quelli che dicono Falcone dice che non c'era il terzo livello Falcone non dice che c'era il terzo livello perché per lui non esisteva un terzo livello esisteva il vertio di Cosa Nostra che aveva rapporti con l'economia e con la politica un rapporto intrecciato non distinguibile in primo, secondo, terzo livello non esiste Cosa Nostra che prende gli ordini della politica ma non esiste neanche la politica che prende gli ordini da Cosa Nostra questo deve essere chiaro un po' a tutti esistono due ambienti la politica ovviamente intendo quella malata la politica sana quella di Piola Torre quella di tanti altri che si sono spesi contro le mafie la politica malata con Cosa Nostra fa pezzi di strada insieme che convengono a tutte e due questo era chiarissimo anche a Giovanni Falcone e su questo probabilmente avrebbe indirizzato la sua azione successiva al maxiprocesso se gli avessero riconosciuto il ruolo di giudice istruttore a Palermo se poi gli avessero consentito gli ulteriori passi non tanto di carriera perché poi il magistrato paradossalmente appunto fa carriera anche senza avere questi incarichi ma senza gli incarichi che Falcone meritava sicuramente al momento in cui ha concorso e che gli vengono legati dal CSM con motivazioni che lette dopo sono tutte francamente risibili nel senso per questioni di età per questioni di esperienza addirittura l'esperienza sulla lotta alla mafia francamente quando Falcone fa domanda per i posti per cui fa domanda non esisteva nessun altro che avesse l'esperienza di Falcone forse appunto solo Borsellino avrebbe potuto gareggiare con lui forse qualche altro magistrato del pull ma appunto sicuramente fuori da quell'ambito nessun magistrato poteva gareggiare in esperienza con Giovanni Falcone per cui Falcone viene fermato per quello quello che però appunto non si è mai riuscito a capire come mai di tutte quelle inchieste non ci sia stato uno sviluppo successivo malgrado siano arrivati a Palermo magistrati molto bravi che hanno fatto tantissime inchieste Giancarlo Caselli ha rischiato la sua vita letteralmente insomma l'ha messa a disposizione senza che nessuno glielo chiedesse nel senso che ha scelto di andare giù però forse non ha trovato le carte che aveva bisogno di trovare e sono rimaste nascosti anche a lui alcuni elementi che non è riuscito a connettere fino in fondo e purtroppo un magistrato deve basarsi sui fatti non può fare i processi non può fare niente se non avendo davanti a sé sul suo tavolo da portare poi sul tavolo di un processo dei fatti per cui purtroppo quelle inchieste bloccate a Falcone negli anni in cui appunto ci collaborava anche il generale Pellegrinio ma anche altri valenti collaboratori ho ricordato Gianni De Gennaro sono finite nascoste sono probabilmente sono morti alcuni dei personaggi che potevano raccontare alcuni personaggi che potevano raccontare verità hanno ritenuto non conveniente non raccontarle tutte le abbiamo scoperte appunto abbiamo scoperto molti dei rapporti con la politica molti dei rapporti con l'economia siciliana questo non è bastato a salvare la Sicilia e l'Italia da Cosa Nostra ma sicuramente è bastato e servito a dare un colpo molto decisivo a quella che era Cosa Nostra nell'epoca purtroppo mentre Cosa Nostra veniva colpita duramente non ci si è accorti che l'Andrangheta stava diventando la forza che poi è riuscita a diventare e che tuttora la fa essere un elemento capace di scardinare il sistema economico italiano in questo momento non tanto quello politico con il quale pure l'Andrangheta ha legami molto stretti non più ai vertici altissimi sono molti anni che nelle indagini diciamo i rapporti con personaggi di livello altissimo cioè di governo del nostro Stato non emergono chiaramente ma nelle vie di mezzo invece ne emergono tanti a livello di assessori regionali ne emergono una quantità enorme di persone in contatto con elementi dell'Andrangheta a livello economico ne emergono ancora di più cioè di aziende che pensano di fare affari con dranghetisti ben sapendo di trovarsi davanti con dranghetisti salvo poi dirà ma io pensavo fossi un normalissimo imprenditore salvo avergli chiesto magari in qualche passaggio di andare a gambizzare un creditore o meglio un debitore o qualche avversario nell'impenditoria e di conseguenza insomma da questo punto di vista sull'Andrangheta ci siamo forse un po' tutti colpevolmente distratti perché concentrati a colpire cosa nostra ma diciamo stiamo recuperando adesso sono anche lì per concludere sempre con una nota positiva l'Andrangheta ha molti collaboratori di giustizia che negli anni precedenti non aveva comincia ad avere tante falle interne cioè persone che crescono dentro l'Andrangheta e che dall'Andrangheta vogliono uscire magari non collaborando con la giustizia ma scegliendo di tirar fuori i figli come stanno facendo tante madri ma anche alcuni padri che forse è la cosa più sorprendente in queste scelte cioè scelgono di non far crescere i figli dentro la struttura dranghetista ma di portarli fuori non verso carriere brillanti ma semplicemente fuori dal movimento criminale ecco insomma spero di aver risposto un po' a tutti quanti Riccardo sei un mito ti voglio bene vi ringrazio grazie da parte di tutti noi veramente grazie 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 di qua ciao a tutti e grazie veramente bacione grazie ciao 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 ciao